Ciao ragazze, oggi vi parlo delle scoperte bio ma in questo video aggiungerò anche rispetto agli altri un flopone perché è troppo flop ed è bio e ve ne volevo parlare quindi lo metto in questo video Iniziamo però dal makeup e dalle scoperte bio perché ci sono questi illuminanti che sono meravigliosi sono degli illuminanti di Peterak che ha fatto in collaborazione con Giulia Covan io veramente li amo, li amo da quando li ho sto praticamente utilizzando sempre lo Starlight questo qua, ce l'ho anche indosso oggi me l'avete visto in tantissimi mi preparo con voi lo amo, io amo la texture di questi illuminanti e poi tra l'altro sono bio perché Peterak sapete che è un brand bio mi piace tantissimo il makeup Peterak e amo tantissimo questi illuminanti perché tra l'altro prese con il dito sembrano veramente molto strong la texture è quasi cremosa poi al tatto questo ad esempio è con il dito vedete che è davvero molto strong però poi con il pennello io uso quelli di Nabla, quelli per l'illuminante si ha un effetto soft non enfatizzano assolutamente la grana della pelle infatti quando io li ho sbocciati sulla mano ho detto oddio sono veramente super potenti però si possono dosare benissimo proprio con il pennello dipende poi dal tipo di applicazione che utilizzate bellissimo anche quello rosato che è il Venus Light che ammetto però di aver utilizzato poco perché il mio preferito è questo qua color champagne diciamo questo va benissimo anche secondo me come ombretto ed è un rosa con dei riflessi oro questo invece è Mars Light che è sicuramente più adatto per le carnagioni scure eccolo qua cioè sembrano quasi degli ombretti però appunto poi sugli zigomi e così sono meravigliosi meravigliosi durano tantissimo fanno una luce stupenda per quanto riguarda i capelli è stata una bellissima scoperta questo di Eteria lo shampoo antiforfora di Eteria è il primo prodotto per i capelli di Eteria che provo l'ho comprato sul sito Ecobelli ecco come l'ho ricordato Ecobelli a circa 9 euro quindi non costa poi eccessivamente tenete presente che quello della Bio Cup che io trovo da Natura Si lo pago quasi 12 euro se non 12 euro quindi insomma 9,9,90 ci sta come prezzo secondo me anche perché comunque io lo alterno anche ad altri shampoo delicati eccetera e questo mi piace tanto perché è delicato ma al tempo stesso efficace rispetto a quello della Bio Cup è meno come posso dire meno potente forse meno sgrassante ecco ho trovato la parola meno sgrassante rispetto a quello della Bio Cup se avete proprio tanta tanta forfora io vi consiglierei più quello della Bio Cup però per utilizzare un antiforfora magari un po' più spesso questo è perfetto anche perché non secca i capelli i Bio Cup se lo utilizzate molto spesso tende a seccare i capelli questo invece non li secca assolutamente e infatti c'è scritto che è formulato contenzi attivi delicati per lenire e rinfrescare la cute irritata e combattere la disquamazione ha un sacco di cose veramente molto interessanti tra cui l'estratto biologico di timo riequilibrante e astringente l'acido salicilico che sfoglia gli strati superficiali della cute rispettando il corretto equilibrio sebaceo sono 200 ml di prodotto e ha una scadenza di 6 mesi ottimo a questo giro non ho tantissimi prodotti da mostrarvi però sono quei prodotti pochi ma buoni come ad esempio questo siroviso prime rughe dell'idea questo ve l'ho fatto vedere nel video sulla mia skin care routine del mattino che magari vi vinco perché se non l'avete vista vi potrebbe essere magari utile e questo mi è stato inviato a questo Natale nel cofanetto insieme anche alla crema viso e io sto amando follevente questo siro lo sto usando da circa un mesetto però vedete sembra che io ne abbia usato pochissimo perché in realtà mi basta semplicemente una pump per tutto il viso una pusciatina per tutto il viso perché è molto idratante ma non eccessivamente idratante al punto giusto per una pelle mista questo appunto è alvitis melograno è anti age e dice di utilizzarlo mattina e sera effettivamente a volte lo uso anche la sera quando mi sento la pelle che tira che secca un pochettino lo uso la sera ve lo volevo mostrare proprio ora perché è comunque idratante se avete la pelle mista secondo me con i primi caldi non è adatta non è adatto questo siro perché più che un siro ve l'avevo fatto proprio vedere appunto la texture nel video della mia skin care più che un siro sembra proprio quasi una cremina quindi è una cremina leggera ma idratante quindi è perfetta per me in questo periodo nel cofanetto che avevo ricevuto c'era anche la crema viso la crema viso però ha il burro di carità all'interno è molto idratante quindi l'ho regalata a mia mamma quella è adatta più per una pelle secca per una pelle matura mentre questo siro ve lo consiglio se avete una pelle mista un po' per tutte le taura lasciate perdere che è per le prime rughe va benissimo anche se avete 20 anni secondo me questo prodotto anzi prevenire è meglio che curare e lo amo veramente non pensavo ma lo amo e tra l'altro costa pochissimo perché è dell'idea e lo trovate da Tigotà ma se non avete Tigotà lo trovate anche online ad esempio sul sito di Ecco Verde dovreste trovarlo per i capelli mi sta piacendo tantissimo anche questa maschera di Rasayana hanno fatto queste maschere che hanno presentato al Sana a settembre questa qua è la maschera fortificante mentre questa è la maschera ristrutturante di questa vi parlerò prossimamente perché l'ho utilizzata l'ho iniziata da poco mentre questa lo sto già quasi terminando queste sono delle maschere due in uno che possono essere utilizzate proprio come maschere o al posto del balsamo questa rinforzante con zenzero e fieno greco per i capelli fragili ed è questa qua questa è la consistenza mi mancano poche applicazioni l'ho terminata la profumazione potrebbe non piacervi perché effettivamente sa un po' di fieno e un po' un pizzico di zenzero chiamiamolo così però a me non ha mai dato fastidio sinceramente sui capelli poi non si sente cioè una volta che li risciacquate non rimane la profumazione sul capello mi è piaciuta molto questa maschera l'ho trovata davvero valida proprio perché mi rendeva i capelli belli morbidi la consistenza è proprio densa quindi è tipo crema densa quindi ve li rende belli morbidi vi faccio vedere invece l'altra anche se ve ne parlerò successivamente perché non me ne sono fatta un'idea ben precisa la consistenza dell'altra è questa qui l'ho usata un paio di volte questa mi piace molto di più come profumazione e questa è con amla e brami per capelli danneggiati e sfibrati questa mi piace molto di più come profumazione però devo capire se come effetto mi piace più questa o questa insomma questa l'ho usata da poco quindi poi ve ne parlerò di nuovo successivamente e vi dirò quale delle due sul mio tipo di capelli funziona meglio in questo video però purtroppo ho anche un floppone che non mi piace per niente è il tonico purificante con lime di freshly cosmetics che avevo ricevuto insomma nella famosa box dove pian piano vi sto parlando dei loro prodotti allora no questo tonico proprio non mi piace per niente partiamo proprio dal packaging è una pistola anzi secondo me le pistole d'acqua sono meno invasive quelle da gioco è impossibile spruzzarlo in questo modo è proprio impossibile quindi io lo dovevo mettere in un dischetto di cotone e poi tamponarlo la profumazione è fortissima e vi giuro è troppo invasiva non so che cosa mi fa ricordare è un sorbetto ecco pensate a un sorbetto al limone ma super super intensa questa profumazione troppo forte che la prima volta che l'ho spruzzato vi giuro stavo affogando mi stavo strozzando troppo forte come profumazione buona ma molto dolce forte mi sarebbe piaciuta un po' più soft più delicata ma soprattutto non mi piace l'effetto sul viso è appiccicosissimo non so se è perché c'è la glicerina al terzo posto però ad esempio sto provando anche un altro tonico di un'altra marca che ha la glicerina al secondo posto ma si assorbe non è così appiccicoso non ho idea peccato perché comunque è di Freshly Cosmetics è una marca che mi piace molto è biologica è spagnola sto provando altre cose ho provato tipo lo scrub mi era piaciuto moltissimo sto provando ora il serum per il contorno occhi che non mi sembra male anche se devo testarlo bene però questo proprio no ragazze c'era una ragazza che mi aveva scritto che anche a lei non era piaciuto assolutamente questo qui fammi sapere se anche tu insomma hai avuto la stessa mia impressione comunque super appiccicoso non si assorbe mai no e poi tutto il resto anche in più che si aggiunge quindi questo purtroppo per me è un bel no purtroppo quindi ragazze queste erano le mie scoperte bio del periodo e purtroppo un floppone anche del periodo spero che il video vi sia piaciuto anche se non ci sono stati tanti prodotti io vi mando un grossissimo bacione e alla prossima